Concluse le indagini sulla maxitruffa all'Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Questo è l'esito dell'operazione Transumanza, condotta da nord a sud dalla Guardia di Finanza di Pescara e diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di L'Aquila. Sono 75 soggetti e gli enti coinvolti in tutta Italia, tra Abruzzo, Puglia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Campania per un giro di affari illecito su cui si sospetta anche la mano della mafia foggiana, visto il coinvolgimento di soggetti vicini ad organizzazioni criminali del Gargano. Il pool investigativo ha così tratteggiato l'esistenza di un sodalizio criminale dedito alla perpetrazione, con l'aggravante mafiosa, di frodi a danno del bilancio nazionale e comunitario che sarebbero state attuate mediante indebite richieste di contributi per il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia nel settore della politica agricola comune. Per truffare Bruxelles, l'associazione per delinquere operativa dal 2014, di cui farebbero parte 13 persone, avrebbe simulato il possesso dei requisiti necessari per ottenere la disponibilità di terreni e di corrispondenti titoli PAC rilasciati gratuitamente dalla Riserva Nazionale dei Titoli ai nuovi giovani imprenditori agricoli. Le frodi accertate dai finanzieri ammonterebbero a circa 5 milioni di euro e i soggetti e le imprese coinvolte sono accusate a vario titolo di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ricettazione e truffa aggravata ai danni dello Stato e per il conseguimento di erogazioni pubbliche.